inizia pure eccolo qua andrea prova il microfono prova 1,2,3,1,2,3 sei online in diretta già fantastico grazie ciao a tutti su serio si? cominciamo bene ho 7 spettatori tutti di un colpo si va si va ragazzi ciao a tutti bentornati nel laboratorio di Arcade Story intanto inizio con il ringraziarvi per aver chiesto ancora che ci fossero altre dirette su twitch con alcune nuove spiegazioni tecniche sul mondo dei monitor arcade e di conseguenza visto che ormai gli argomenti non dico che cominciano a scarseggiare ma bisogna trovarne sempre di nuovi finalmente oggi è la giornata in cui posso parlare del mio argomento preferito i monitor vettoriali perché ridi? la chi? ah la la allora il mio argomento preferito sono anche i monitor vettoriali ok i monitor vettoriali i monitor vettoriali sono molto affascinanti adesso vi racconterò un po' la storia che ha portato alla comunque vi faccio presente che c'è Andrea Antonio qua nel dietro le quinte che fanno stai cercando di farmi ridere allora la tecnologia e lo sviluppo dei monitor vettoriali si svolge tra la fine degli anni 70 e metà degli anni 80 dopodiché c'è stato per loro un rapidissimo declino durante però questi anni sono usciti dei titoloni veramente indimenticabili per il mondo del vector game e diciamo correvano questo tipo di tecnologia correva a parallela a quelli dei giochi raster tradizionali quindi praticamente negli stessi anni c'era uno sviluppo di giochi con la tecnologia classica dei raster dei giochi raster quindi se avete visto le mie lezioni precedenti quindi deflessione a 15 kilohertz scansione orizzontale verticale adesso faremo un velocissimo ripasso ma contemporaneamente i giochi vettoriali aumentavano di complessità e di bellezza per cui riuscivano per certi versi a non dico tener testa erano proprio dei giochi a parte e adesso spiegheremo il perché allora facciamo un veloce riepilogo del monitor tradizionale come ve l'ho spiegato nelle nelle lezioni passate perché nel caso dei giochi vettoriali c'è sempre un tubo a raggi catodici sembra che funzioni nella stessa maniera e per certi per molti aspetti lo condivide il monitor vettoriale è quasi un monitor raster su molti componenti però la tecnologia di base è completamente diversa adesso vediamo il perché allora qui tanto abbiamo sempre dei monitor in riparazione quindi becchiamo un Antarex 9000 a caso per descrivere nuovamente i componenti base come ho già spiegato nelle altre lezioni abbiamo fondamentalmente un generatore di fascio il fascio di elettroni il nostro cannone elettronico che spara verso diciamo lo schermo da dietro verso di noi va a colpire stringo un po' nella spiegazione va a colpire dei fosfori che prendono l'energia dell'elettrone lo trasforma in fotone e quindi diventa un puntino luminoso sullo schermo questo puntino viene mosso come praticamente come noi leggiamo le pagine di un libro per cui noi partiamo da sinistra a destra poi andiamo a capo leggiamo una riga andiamo a capo questa operazione viene fatta dal sistema di scansione orizzontale verticale per cui praticamente lui comincia in alto disegna tutta una serie di puntini colorati più accesi meno accesi proprio come fosse un bitmap praticamente prende un bitmap e lo disegna dall'alto comincia dall'alto da destra a sinistra poi spegne il raggio va a capo e disegna un'altra riga così molto velocemente compone tutta l'immagine dopodiché disegna il quadro e poi ricomincia in realtà fa prima un semiquadro poi fa un altro semiquadro a linee pari linee dispari comunque diciamo che la spiegazione veloce è quella quindi abbiamo una scansione orizzontale a 15 kHz e la scansione verticale a 60 Hz e le cose che abbiamo detto valgono per il raster ma cosa succede? succede che negli anni 70 a fine 70 quando iniziano i primi giochi i primi videogame arcade diciamo a comparire sul mercato ci si accorge ben presto che la tecnologia sull'aspetto grafico è molto scadente cioè purtroppo la risoluzione è molto bassa e soprattutto non c'è verso di pensare ancora al 3D cioè perché ovviamente non ci sono ancora motori grafici in caso in grado di lavorare con il 3D non ci sono le macchine la parte grafica non è in grado di processare poligoni e fare figure in 3D di conseguenza si fa un approccio completamente diverso per la creazione dell'aspetto video dei giochi arcade allora praticamente si va a prendere la tecnologia che già c'era la tecnologia vettoriale non è stata inventata per i videogiochi vettoriale vuol dire vettore vettore cioè noi se pensiamo a una linea disegnata con il raster cosa dobbiamo pensare? dobbiamo pensare alla nostra bella scansione come vi dicevo prima a un certo punto incontrerà un punto dello schermo dove devo iniziare a visualizzare il primo puntino della linea poi fa tutto il passaggio poi ritorna un po' più sotto riaccendo un altro puntino fa un altro passaggio ne accende un terzo fino a che completa tutta la riga questo è il modo di fare una riga con la tecnologia raster con il vettoriale uso dei vettori come la grafica vettoriale per chi conosce illustrator o comunque lavora con la grafica vettoriale un punto di partenza e un punto di fine vai da lì a lì e fai la riga semplicissimo quindi tac molto molto più semplice un triangolo non ho bisogno di andare a disegnare puntino per puntino con le coordinate dei tre lati tac 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 e mi faccio ne ho fatti quattro tac tac e tac mi faccio il mio bel triangolo il mio triangolo che poi diventerà il poligono di una 3D quindi stiamo parlando di una grafica 3D però attenzione non la grafica 3D come la conosciamo oggi si sta parlando degli anni 70 e primi 80 stiamo parlando di una grafica 3D sullo stile wireframe wireframe cioè una struttura a fil di ferro per cui io immagino cioè con un bel po' di fantasia immagino il mio solido 3D che è costituito solo da delle stecchette diciamo che segnano i bordi esterni dell'oggetto ecco però comunque sia tutti quei bordi, quelle coordinate sono comunque coordinate matematiche che il gioco diciamo processa ed è in grado di generare le prime immagini in vero 3D e quindi come funziona il monitor rispetto al raster? allora di base andando proprio nella lezione di oggi vera e propria il monitor vettoriale non funziona come il nostro monitor raster ha alcune componenti identiche ma le altre sono completamente diverse avrà sempre certo lo schermo con i fosfori ha il cannone che si muove però tutta la parte di scansione verticale e orizzontale non c'è, manca completamente molto semplicemente se vi ricordate le lezioni precedenti comunque adesso ve lo rispiego abbiamo questa cosa sul collo di ogni CRT che è il nostro sistema di deflessione ha una bobina che muove il punto in orizzontale e un'altra bobina che muove il punto in verticale e quindi nel monitor raster è una scansione ciclica che viene ripetuta sempre uguale anche se non c'è l'immagine se il videogioco e la scheda non dà un'uscita video comunque la scansione lavorerà sempre farà sempre il suo movimento solo che l'immagine sarà buia nel monitor vettoriale non funziona così funziona in una maniera piuttosto diversa ovvero lui genera sempre il punto anzi poi vediamo che in realtà il punto non lo deve generare comunque per il momento diciamo lui genera il suo bel fascio di elettronico il cannone elettronico ma in questo caso per spostarlo di coordinate le bobine del verticale e orizzontale sono uguali e semplicemente spostano direttamente il punto da una coordinata all'altra quindi non c'è più la scansione raster ma c'è un sistema di coordinate appunto vettoriali che fa saltare da una parte all'altra il cannone elettronico in maniera molto veloce molto veloce tanto veloce che è possibile appunto fare grafica di schermate di testo di grafica 3D quindi semplicemente andando per esempio se devo fare una A andrò a disegnare le coordinate della A proprio come faccio con una penna e dopodiché molto velocemente vado a ripetere l'immagine sempre nelle stesse coordinate diverso invece da disegnare puntino per puntino una A raster questo cosa comporta? comporta un'elettronica del vettoriale molto più semplice perché non devo generare sincronismi, scansioni io lo porto da un punto all'altro banalmente il problema è che queste sono delle bobine quindi generano un forte campo elettromagnetico e spostare da un punto da una parte dello schermo all'altra il nostro cannone elettronico vuol dire generare una grande corrente grande corrente pilotata dai nostri fedeli transistor che però sono sollecitati un bel po' infatti uno anche dei motivi per cui la grafica vettoriale venne abbandonata attorno al 1985 è dovuta al fatto che i monitor erano più delicati perché ovviamente generavano grandi quantità di calore si rompevano spesso spesso prendevano addirittura fuoco quindi diciamo più semplici se volete anche da riparare da sistemare perché nella loro tecnologia sono un po' più banali perché praticamente si tratta di avere due grossi amplificatori che spostano diciamo che alimentano queste due bobine per l'X e per l'Y quindi sono due amplificatori costruiti veramente con quattro componenti infatti dopo andremo a vedere da vicino la scheda elettronica dello chassis vettoriale e vedrete che rispetto a un'elettronica tradizionale ci sono meno componenti però meno componenti che fanno una gran fatica allora tornando alla nostra idea di grafica vettoriale quindi praticamente se nel monitor CRT raster non avevo una coordinata fissa andava dall'alto al basso quindi faceva la sua bella scansione sempre uguale a un certo ritmo diciamo scandito nel vettoriale se ho un'immagine semplice la scrivo molto velocemente se ho un'immagine molto più complicata piena di robe la scrivo più lentamente perché ho proprio più cose da fare più spostamenti da fare ecco perché a volte se avete notato nei giochi vettoriali quando c'è poca cosa sullo schermo l'immagine sembra essere più stabile quando c'è tanta roba sullo schermo sembra quasi che un po' lampeggi perché è tipico diciamo della sua costruzione ovvero bisogna gestire tutto questo insieme di immagini sullo schermo sparando diciamo il punto da una parte dall'altra spegnendolo quando non c'è bisogno di scrivere proprio un pennello quindi con il Vectrex abbiamo rischiato tutti la vita che duccia allora esatto raggi beh allora allora ottima domanda perché il Vectrex invece non prendeva fuoco beh perché prima di tutto il Vectrex è uno schermetto da 7 pollici e quindi tutte le correnti in gioco sono molto più piccole se invece prendiamo un monitor da 20 e rotti pollici è chiaro che lì ci sono molte correnti in gioco molto più alte e quindi molto più calore dissipato prima cosa seconda cosa la complessità dei giochi del Vectrex sono molto inferiori a quelle degli altri giochi se prendiamo un gioco vettoriale che poi è stato fatto anche il porting sul Vectrex vedrete che il gioco su una scheda che è grande così è molto più complicato mentre il Vectrex aveva uno stampatino piccolo piccolo e quindi è tutto rapportato ci sono molte meno astronavi esplosioni immagini scritte quindi è tutto proporzionato ed ecco perché i Vectrex si rompevano molto di meno e non prendevano fuoco comunque ottima domanda tornando al discorso della scansione quindi praticamente mentre vi spiegavo che il raster ha questa continua scansione dello schermo il Vectrex se non riceve nessuna informazione scusate il Vectrex il monitor vettoriale se non riceve nessuna informazione della scheda gioco si ferma al centro quindi il punto rimane fermo perché non ha ricevuto nessuna coordinata né di più x meno x più y quindi rimane fermo se rimane fermo può continuando a mandare energia sullo schermo un puntino fermo al centro può bruciare il fare un burn vi ricordate che si diceva bruciare i fosfori sciogliere il vetro sparare nella fronte ma tanto non lo vedresti perché una volta che supera il vetro è solo un fascio di elettroni al limite vedi un po' di ossa potrebbe comunque danneggiare il punto centrale dello schermo per questa cosa è stata inventata praticamente una sicurezza dentro l'elettronica che si chiama spot killer bel nome spot killer dove appunto quando c'è il raggio spot viene killerato viene spento quindi ecco quando lo spot lo spot killer può essere anche il responsabile di un guasto allo schermo voi non lo vedete pensate che il monitor vettoriale sia guasto in realtà lo spot killer è attivo e per cui non vi fa vedere l'immagine può essere uno dei guasti che spesso avviene nei vettoriali quindi praticamente il vettoriale rispetto a un monitor tradizionale che ha bisogno delle R G B sincronismo verticale sincronismo orizzontale in questo caso lavora molto diverso perché riceve x y e poi i colori se è un schermo vettoriale a colori o altrimenti semplicemente l'intensità del raggio in questo caso bianco se parliamo di un monitor in bianco e nero vettoriale quindi vediamo un po' quali possono essere diciamo i giochi così giusto per rinfrescarvi un po' la memoria beh il primo è stato è del 77 si chiama Space Wars anche se noi in realtà non è molto facile neanche da trovare quello che ha spopolato il primo gioco vettoriale che era in bianco e nero che ha spopolato è sicuramente Asteroid quindi Asteroid sicuramente lo ricordate tutti ecco ce ne sono stati molti di molto figo che abbiamo anche noi è anche dietro di te funzionante in formato tavolino ma ce l'abbiamo anche Omega Race anche Omega Race e poi ce ne sono tanti in realtà anche in bianco e nero beh adesso stiamo parlando di quelli in bianco e nero però ci chiedono già quanti colori poteva visualizzare il monitor vettoriale perfetto ci arrivo infatti sto partendo dal bianco e nero e adesso parleremo anche del colore perché ci sono delle cose che in effetti ho scoperto anch'io anche di diciamo recentemente quando mi sono messo proprio anche nella riparazione nella tecnica dei monitor vettoriali a colori il monitor vettoriale in bianco e nero ecco al limite del bianco e nero c'è il monitor ancora monocromatico con sopra gli overlay colorati è stata una una pratica usatissima nel Vectrex per dare l'illusione del colore però veniva usata anche in giochi arcade per esempio Battlezone è monocromatico però aveva alcune sezioni tipo dove c'era il radar e dove c'erano i punteggi con delle gelatine colorate verde e rosse che vi davano un po' l'illusione diciamo di uno schermo a colori poi invece sono arrivati i veri e propri monitor a colori quanti colori possono visualizzare beh in realtà non c'è un limite a quanti colori perché comunque in questo caso come c'è il monitor raster vi fa vedere un tot di colori che è un insieme di pixel RGB vi ricordate che si è detto praticamente ci sono tre cannoni uno per il rosso uno per il verde e uno per il blu sparano tutti vicini vengono tutti e tre mossi nello stesso punto dove troveranno un fosforo rosso un fosforo verde un fosforo blu passando attraverso quella che si chiama la shadow mask che è una griglia con dei forellini e vanno a cascare sui fosfori e illuminano quel punto va detto questa cosa è particolare che ormai noi siamo molto abituati a parlare di risoluzione megapixel 4k che danno tutta idea di un insieme di punti colorati in realtà nel monitor non funziona nel monitor CRT non funziona esattamente così è analogico quindi praticamente la posizione individua una certa posizione dello schermo dove comunque questi fosfori cadono circa in quel punto lì proprio per costruzione fisica arriveranno su un punto dove c'è un fosforo verde un fosforo rosso un fosforo blu però comunque sempre all'interno comunque di un meccanismo di un tubo con un movimento legato a una tensione analogica che viene applicata alla deflessione quindi il risultato che qui entriamo nella grande guerra nella grande battaglia dell'emulazione sull'LCD di giochi che nascevano per il CRT e la quell'effetto diciamo la sfumatura le scanline tutto quello che rende tipico un CRT è dato proprio dalla shadow mask praticamente questa griglia che voi non vedete è dentro uno schermo tra l'altro poi vediamo se no magari sarà per un'altra volta abbiamo addirittura qui un un CRT che è esploso per il calore si è fuso il vetro e lì riuscite proprio a vedere questa griglia di metallo con questi microforellini da cui passa il canone elettronico e va a illuminare i fosfori che sono applicati sulla parte dietro dello schermo di vetro ma torniamo alla domanda quanti colori posso visualizzare allora di colori la gamma di sfumature per il nostro CRT per come costruito è infinita in realtà non c'è un numero limite di colore perché l'RG e B possono avere qualunque valore di tensione quindi qualunque sfumatura di colore ma non volevo dire niente siccome scrivono in chat di non farlo a casa perché beccarsi una scossa del CRT a parte che adesso questa è tutta roba che abbiamo scollegato dobbiamo ancora iniziare a far esplodere cose come al solito però cioè ragazzi adesso che ci seguite ogni volta speriamo di non dover ripetere queste robe se avete un monitor collegato esatto non andate a toccare a mani nuve sì allora ragazzi queste sono lezioni con un certo livello di tecnica e di esperienza questa deve essere solo un racconto cioè diciamo una descrizione che vi faccio poi non è che appena finisce la diretta vi tuffate dietro le vecchie televisioni a cercare di prendere le scosse ecco e intanto vi spiego la tecnica poi ovviamente vale sempre la regola che se non sapete dove mettere le mani non fatelo a casa quindi insomma lasciate i coperchi dietro i televisori e dietro i cabinati ok quindi quanti colori possono visualizzare allora in realtà qui il numero limite di colori visualizzabili è sempre quello della scheda gioco è lei alla fine che regola che dà i valori di tensione al CRT per visualizzare perché siccome comunque voi dovete immaginare che i videogiochi in realtà all'interno c'è un microprocessore della RAM la RAM video lavorano un po' come computer e quindi tutto viene elaborato digitalmente ok quindi alla fine il valore di R G e B per dare un certo colore alla fine lo dobbiamo sempre pensare come un valore digitale a 8 bit 16 bit 24 bit che poi comunque va convertito in un valore analogico e mandato al monitor che è sempre un apparecchio analogico quindi è chiaro che se io avrò 8 bit posso dare 256 valori diversi di tensione per ogni colore quindi RGB da 0 a 255 da 0 a 255 da 0 a 255 e sfumature di colore se ho dei convertitori a 16 bit il valore sale eccetera eccetera quindi diciamo il limite viene imposto sempre dal gioco non dal monitor il monitor teoricamente può visualizzare qualunque sfumatura di colore true color full color 16 milioni di colori ecco anche il 16 milioni penso che sia comunque una conversione dal digitale va bene guardiamo un po' di tecnica ci giriamo è acceso il gioco si? il gioco è acceso poi è aperto ok allora hai un po' di limbo sotto il cavo opa limbo rovescio non correre via che c'hai il microfono toccato ok aspetta senti il gap in un monitor ovviamente allora andiamo a vedere una schermata tipo ti conviene prendere si decisamente mi conviene prendere oh vuoi girare un po' il cabinato ci arrivi? no devo comunque far passare scolleghiamo un attimo torniamo subito grazie mille ragazzi arriviamo vediamo ci si collega eccolo qua broadcast back ah rieccoci rieccoci ma ti conviene tenerla in mano comunque ah dopo però mi sposto no si vede molto bene dai sono peggio siamo qua dietro ok ecco qui che per me è stata anche una grande una grande scoperta e anche una grande delusione se noi andiamo a vedere riesci a zoomare molto vicino all'astronave vediamo un po' cosa si vede eccola ancora di più si ancora un po' di più eccola qua vedete eccola guardate molto bene allora io vi avevo detto che il il vettoriale è bellissimo perché la linea è ben definita perfettamente e invece qua cioè sembra di vedere effettivamente dei puntini sembra di vedere una grafica raster la fregatura è proprio la shadow mask perché questo è un vettoriale a colori per creare i colori abbiamo detto che c'è una matrice di fosfori RGB uno in fianco all'altro tutti ravvicinati che formano quindi una matrice di cui ogni puntino può diventare se il fosforo R, G e B sono tutti accesi quindi un fosforo diventa colore bianco però siccome la matrice ovviamente non ha una dimensione microscopica ha un limite di fosfori che sono riusciti a fare una serie di fosforini tutti affiancati e quindi questo ricorda la matrice per esempio di un LCD o di un raster quindi in realtà anche i giochi vettoriali se li guardiamo ben da vicino eccolo perfetto eccolo quello che vedete eccolo inquadrato questo fantastico allora quello che vedete sono proprio i fosfori colorati in questo caso sono accesi i fosfori verdi e i fosfori rossi questa è proprio la visione ravvicinata dei fosfori colorati questa cosa non si vede invece nei vettoriali in bianco e nero perché il vettoriale che ha un solo colore non ha bisogno dei fosfori RGB non ha bisogno della shadow mask non ha bisogno di niente può sparare direttamente il suo cannone elettronico verso il fosforo che si illumina in quel punto lì ed ecco perché in realtà giochi come asteroid che poi magari abbiamo qui il tavolino abbiamo portato quindi vi possiamo far vedere come funziona abbiamo anche l'esperto qui di oggi vuole inquadrare l'esperto perfetto ok bene dicevo quindi hanno veramente i giochi vettoriali in bianco e nero sono quelli che hanno in assoluto la cosa più vettoriale ovvero una linea da una parte all'altra il vettoriale più puro perché questo già il vettoriale a colori secondo me per il fatto che comunque hai tre fosfori colorati e la shadow mask comunque diciamo porta a rendere il gioco forse un po' più raster eccolo andiamo adesso che abbiamo visto quindi rifacciamo uno start ok eccolo infatti Asteroids lascia proprio una bella scia perfetto che qui infatti non infatti qui non c'è più quindi i giochi si sono belli colorati eccetera però comunque non hanno quel fascino di Asteroid i colori e mezzo esatto beh allora in realtà questo avevamo sottotiro questo bellissimo Space Duel quindi ve lo mostriamo anche perché sono giochi abbastanza rari e vale sempre la pena mostrarli il primo livello così non rende tanto quando dopo iniziano a già esserci i cubi un po' più tridimensionali esatto esatto ecco comunque qui immaginiamo se vogliamo un po' entrare nel discorso della tecnologia del monitor immaginiamo proprio che questo punto e questo nostro cannone questo puntino non fa la scansione come vi dicevo quindi con tutte le linee così ma va disegna questo lo deve proprio disegnare come disegna una riga poi torna lì un'altra riga un'altra riga disegna proprio tutte le righe poi si spegne si sposta va per esempio a disegnare il punteggio fa le gambina del 9 la gambina dello 0 poi si sposta di nuovo e va praticamente come un vero pennello proprio elettronico a scrivere proprio come fosse una penna quindi una tecnologia completamente diversa una volta che sono stati illuminati rimangono accesi per per poco in realtà se non ci fosse comunque il decadimento del fosforo per cui rimanesse un attimo acceso prima che il pennello ripassi a rifare la scritta vedreste tutto molto 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 più lampeggiante ecco quindi diciamo il fosforo da quel ritardo che serve a far sì che poi il pennello ritorni nella stessa posizione a riscriverlo e quindi a farvi vedere un'immagine stabile ecco già qui in realtà nel io direi che no no sto guardando la diretta notate che per esempio se vedete le scritte sembra come che un po' lampeggino no? cioè non sono tutte belle stabili ma se vedete il verde sembra un po' lampeggiante e lampeggino alternativamente no ma va bene questo voglio che si veda perché stanno anche cambiando colore ok se vuoi ti posso fare tipo adesso si vede che cambia colore ah sì però lampeggia un po' meno perché ho messo certo 60 invece di 50 ecco no no fai il contrario cerca proprio di aumentare il lampeggio così eccolo posso mettere anche di più di più il massimo che riesci a fare così ci capiamo è così più che altro è sfocato no 50 è il lampeggio massimo ecco il fatto che questa cosa non lampeggi anche se io eccolo perfetto volevo proprio farvi vedere questa cosa qua questo flicker questo sfarfallio è dovuto proprio al fatto che la telecamera con la sua velocità di otturatore sta prendendo il cannone cioè il pennello elettronico nel punto in cui lui sta scrivendo e quindi all'occhio umano che ha una certa persistenza l'immagine è molto più stabile ma l'occhio elettronico essendo molto più veloce riesce proprio a beccare il punto in cui il pennello si sta spostando da una parte per andare dall'altra e di conseguenza è tutto è tutto lampeggiante vedete questo è dovuto al fatto che nel vettoriale il pennello continua a muoversi da una parte all'altra quindi tutto questo tremolio che voi vedete è proprio tipico della tecnologia vettoriale infatti è molto più difficile fare magari una foto a una schermata vettoriale ecco non vedete per esempio quelle onde che corrono quando cercate di fotografare un CRT in questo caso vedete proprio perfetto pezzi di immagine che mancano ecco qui è molto evidente perfetto ok bene adesso ci spostiamo e andiamo a vedere quella semplicità che vi dicevo sull'elettronica vettoriale abbiamo il nostro ospite questo lo attiviamo? no no intanto guardiamo dietro questo se vuoi ci sei? ok guardiamo di questo va bene ok dietro qua no no va bene teniamo così va benissimo ok vediamo come inquadrato benissimo allora questo è un Asteroid Asteroids Asteroids perché sei più di una quindi Asteroids e nella versione tavolino in questo caso tavolino capottato così vedete meglio la roba lo schermo è qui ed ecco infatti il nostro piccolissimo CRT questo Antonio che da quanti pollici è? di solito i cocktail sono 14 14 ok quindi abbiamo questo piccolo CRT come vedete anche siccome è monocromatico ci basta dare solo un'informazione di luminosità il pennello è uno solo cioè il canone elettronico non è RGB ce n'è uno solo quindi tutta la circuitazione è molto più semplice anche dietro l'attacco diciamo del collo del tubo ha solo il liter cioè il riscaldamento del filamento e poi la griglia per dare più o meno elettroni verso lo schermo e poi abbiamo l'elettronica della allora l'elettronica in questo caso troviamo non ve li riesco a far vedere perché sono qua dietro comunque sulla parte metallica che mi fa da letta da raffreddamento troviamo i transistor finali per lo spostamento vediamo non gli frega niente ci sono i cavi che gli vanno in testa fantastico ok molto bene ok pure anche dell'orrore bene allora questi fili che vanno qui e qui e qui qua sotto praticamente vanno ai transistor finali che sono poi quelli che si rompono sempre per primi praticamente sono applicati qua sotto e poi con i tre fili base collettore emettitore vanno al circuito principale il circuito principale in realtà è molto semplice e come vedete qui dal suo connettore le informazioni del solito cavo diciamo rgb e sincronismi che vediamo il cavo video che trovate dentro i cabinanti per chi è mai andato a curiosare in questo caso è tutto completamente diverso perché qui noi diamo due fili per l'x due fili per l'y due fili per l'intensità e poi l'alimentazione del monitor quindi diciamo le informazioni in questo caso che devono essere vediamo sono queste probabilmente sono queste qui sì perché questa è l'alimentazione ecco questo è questi sono i fili delle nostre delle informazioni eccoli qua perfetto ecco qua sei fili con sei fili diamo le informazioni del vettoriale perché due fili ci danno il valore della della coordinata x due fili per l'y e due fili per l'intensità del colore se è un gioco a colori avrò sempre x y e poi avrò r g e b come notate su questo tipo di monitor è completamente assente il sincronismo non ho bisogno di sincronismo perché in questo caso il sincronismo non c'è va da un punto all'altro salta allegramente da un punto all'altro dello schermo e viene pilotato appunto grazie a questi transistor finali che fanno che fanno tutto lavoro esatto che sono sotto qui vediamo il nostro gioco di deflessione il gioco di deflessione la particolarità che ha è mentre in un schermo raster abbiamo due valori diversi delle due induttanze perché lavorano a frequenza completamente diverse e quindi hanno correnti molto diverse quindi sono proprio diverse di costruzione quindi anche come valore in un schermo vettoriale x e y sono identici per cui praticamente la visualizzazione del vettoriale è indifferente muoverlo verso un asse o verso l'altro e quindi il valore delle bobine è uguale ecco perché non posso assolutamente fare uno swap diretto di un monitor di un CRT verticale con un scusate un vettoriale con un raster però adesso parleremo agli ultimi due minuti anche di alcuni pionieri che hanno fatto anche questo quindi poi ne parliamo che altro dire quanto manca? facciamo pure vedere di qua benissimo ok 10 o 20? 10 quello che vuoi 10 ragazzi mi hanno preso in giro perché devo andare a lavorare guardate allora questo è acceso attenzione quindi ecco come come tecnologia vediamo che anche qui è tutto come il solito abbiamo il nostro tubo con il nostro neck qui dietro c'è la scheda con lo zoccolo che si attacca al neck quindi qui troviamo una prima parte dell'elettronica grazie a l'inverso che si è registrato grazie mille diventato un nostro follower benissimo fantastico grazie e poi anche qui un po' si ripete quello che vediamo nell'altra nell'altra elettronica di asteroid anche qui molto semplice ci sono pochi componenti e i transistor sono montati ecco qua forse se ti metti ben di traverso qua li riusciamo a vedere ecco qua qui ci sono sì ce ne sono due altri due sono qua sotto ecco lì altri due ok bene qui sono tutti questi transistor in TO3 diciamo il vecchio standard diciamo per i transistor di potenza la vera alta tensione è nascosta qui questo qui è la nostra vecchia conoscenza c'è il flyback ovviamente il flyback è il trasformatore di allora giusto il flyback in italiano è sempre stato tradotto come trasformatore di riga qui in realtà lui non fa la riga perché non non lavora come un raster quindi è semplicemente il generatore di alta tensione che ci serve per elettrizzare con un'energia sufficiente il nostro CRT per poter fare correre gli elettroni dal neck fino allo schermo e sbattere contro i fosfori quindi la maggior parte delle volte non era magari roba sulla scheda o il collo che si danneggiavano però era questo che era più probabile che prendesse fuoco beh allora diciamo che i transistoni in realtà si scaldano tantissimo perché voi immaginate che per spostare da un punto da un estremo all'altro dello schermo tutta la corrente deve lavorare e siamo al massimo dell'assorbimento di corrente perché il salto che deve fare è molto repentino quindi diciamo adesso non so esattamente io non ho mai visto monitor vettoriali che prendono fuoco e c'è questa leggenda ecco americana almeno che ho trovato sui forum in realtà poi c'è da dire che la quantità di giochi vettoriali secondo me arrivati in Italia era molto inferiore anche perché Antonio ti risulta che per esempio Antarex facesse sì ah sì c'è la sua versione di vettoriale ne ha procurato uno Matteo Legittimo il ragazzo che ci segue il sito il quale lo sta sistemando e un'altra persona che ha l'Antarex vettoriale è Mark Maverick il quale l'ha sistemato e lo sta facendo funzionare Hyperspace è un gioco tipo Asteroids Bootleg con il vettoriale Antarex della Rumino una fabbrica Rumino una fabbrica di videogiochi italiani ecco in realtà i giochi vettoriali che arrivano qui hanno ovviamente la versione dei monitor americana con la loro funzione vettoriale e quindi come è già successo anche per il raster abbiamo quindi una tutte le marche facevano la loro versione vettoriale anche usando lo stesso tipo di tubo però andando a cambiare il gioco di deflessione e poi tutta la parte di chassis tutta la parte di elettronica bene direi che qui non c'è altro magari Antonio ti posso chiedere una cortesia fino a che adesso torno un attimo in postazione di là a finire di raccontare riesci a rimettermi dritto l'asteroid che così così vediamo da vicino la differenza si ha sempre funzionato quindi speriamo che funzioni ancora sicuro che non funziona quando c'è una buona ce la fai buona mano grazie ok oh devo eccoci qua allora se riesci a darmi qualche metro ok racconto proprio l'ultima cosa ma per fare questa cosa mi serve un gioco eccoci allora vi racconto quindi l'ultima cosa tecnica molto molto simpatica per me è una cosa che conto di fare prossimamente seguendo le gesta di alcuni pazzi americani tra cui il mitico Jason Jason Knopp Corrado Tomaselli si lo ha fatto lo ha fatto su un monitor 14 polis fantastico bene allora ha fatto cosa adesso ve lo raccontiamo allora questo è un gioco di deflessione standard raster ok quindi come vi ho detto un attimo fa le due bobine verticale e orizzontale sono diverse sono molto diverse come valore per cui un vettoriale non è possibile applicare uno chassis un elettronica di un vettoriale a questo gioco qua cosa si sono inventati cioè giustamente è costruito dall'uomo si può smontare e riavvolgere quindi questo questo tipo di prodotto veniva sicuramente fatto da una macchina non c'era l'umino che che avvolgeva a mano o forse anche si chi lo sa comunque diciamo è un'operazione un po' complicata perché come potete notare ci sono si vede bene nella inquadratura ok ci sono decine e decine centinaia di spire perfetto ecco vedete queste ognuna è una spira che fa il giro attorno a questo pezzo di ferrite ci sono questi due blocchi di ferrite con questo rame smaltato avvolto attorno ecco come vedete fa anche un disegno piuttosto complicato cioè entra esce si sposta quindi è una struttura molto complicata non sono delle bobine così girate un po' al volo seguono delle geometrie molto particolari per cui capite che smontare tutto disfare queste bobine riavvolgerle con un dell'altro filo e di altre misure è un'operazione un po' complicata ma comunque è stata fatta quindi praticamente se io prendo uno schermo CRT raster tolgo via il gioco lo smonto lo riavvolgo con dei valori che bisogna ovviamente trovare ma insomma nei forum eccetera c'è appunto chi si è dilettato e ha fatto un po' di esperimenti perché penso che queste cose qua vanno molto ad esperimenti ma se riuscite a riavvolgere la bobina orizzontale e verticale con il valore giusto e con una geometria diciamo accettabile potreste creare un gioco di deflessione vettoriale che va bene sul vostro vecchio monitor raster c'è chi l'ha fatto in America appunto c'è il Jason Knopp che è un esperto di vettoriali che si è messo a fare questa cosa e adesso Antonio come avete sentito c'è qualche mitico italiano che ci ha provato un patriota un azzurro e quindi sicuramente adesso noi siamo talmente fortunati che i nostri monitor vettoriali arrivano funzionano un domani che dovremmo avere il bisogno di fare anche un joke swap su un vettoriale magari tenteremo anche noi l'operazione Antonio l'asteroid funziona? si benissimo e allora adesso guardiamo proprio l'ultima cosa insieme e dopo di che ci salutiamo ci piace così il vetro è atari originale ok quindi ha le strisciate dell'epoca ho 42 anni di strisciate bene lo sentono lo sentono hanno sentito hanno sentito bene bene adesso ti chiederò di zoomare anche su questo mi sta inquadrando il quadro c'è veramente si si è un tappeto non è un cane vero ah che belli metto 50 così si vede giusto ok zooma come non ci fosse sulla qui per esempio ci sono ok nonostante il vetro si vede comunque che qua non c'è la retina qui la retina non si vede giusto assolutamente non si vede perfetto proprio perché questo essendo in bianco e nero non ha bisogno né dei tre fosfori RGB uno vicino all'altro non c'è bisogno quindi della nostra matrice di RGB e non c'è neanche bisogno della shadow mask qui praticamente il nostro fascio di elettroni viene messo a fuoco sempre elettronicamente in modo che sia più piccolo possibile e arriva direttamente sui fosfori che si accendono e poi l'elettronica vettoriale si occupa di muoverlo tramite le bobine del gioco e di disegnare tutto il gioco quindi il grande fascino del vettoriale proprio in bianco e nero è che praticamente l'immagine effettivamente è assolutamente nitida e proprio costruita punto per punto si muove la scansione e lo disegna quindi qui effettivamente trovate delle linee con una se pensate che questo gioco è stato sviluppato alla fine degli anni 70 eppure ha una risoluzione praticamente infinita perché qui non c'è un limite imposto dal tubo in realtà perché non è infinita non è infinita perché c'è una risoluzione in realtà i punti si muovono sempre all'interno di una una certa area sì ma soprattutto il valore analogico è sempre una conversione da digitale cioè il gioco pensa in digitale perché ovviamente alla fine è un computer poi c'è una conversione in analogico la conversione in analogico vi dà comunque un numero finito di valori di tensione non infinito se io lavoro a 8 bit posso avere 256 livelli di tensione diversi questo mi pare che lavori a 10 bit quindi lascio agli esperti i calcoli perché non mi ricordo a quanti valori di tensione corrisponde comunque diciamo ci sono dei limiti ma sempre imposti dal gioco e non dall'elettronica del tubo ecco questo è quanto se non ci sono altre domande io direi che come infarinatura del vettoriale ci siamo allora l'unica cosa secondo me da dire è che si può riparare facilmente il monitor purtroppo non esistono più i trasformatori di riga da cambiare è l'unica cosa che aggiungiamo ecco se si allora prendo la palla al balzo per dire anche che per dire che per per spiegare quanta passione c'è dietro ancora nei giochi vettoriali ecco una cosa importante da dire che qui non c'è mamme che tenga perché comunque l'emulazione che voi vedete con il mamme è comunque un'emulazione che vi permette di vedere sullo schermo sullo schermo del computer o sullo schermo del vostro tv ma è uno schermo raster non è uno schermo vettoriale quindi comunque è un artificio che vi permette di vedere un magheggio che vi permette di visualizzare un gioco vettoriale su uno schermo raster ma è comunque un'emulazione perché il vettoriale come avete visto funziona in maniera diversa quindi negli anni negli anni 90 prima e adesso ultimamente hanno fatto un nuovo dispositivo e alcuni appassionati sempre della crica mondiale di chi ama il vettoriale è riuscito a creare un dispositivo che inizialmente si chiamava il Zector che in onore di anche un gioco vettoriale e praticamente dalla parallela c'era una scusate che magari qualcuno non sa di cosa sto parlando dalla porta parallela che tanto ormai si parta solo di USB ma nei computer di qualche anno fa c'era la porta seriale e la porta parallela di solito destinata alla stampante ecco dalla porta parallela prendevano le informazioni e c'era una scheda che faceva la conversione dopodiché tu praticamente con una versione modificata del MAME potevi andare a pilotare un monitor vettoriale questa scheda su ebay adesso si trova a cifre folli perché non viene più prodotta qualche bravo programmatore ultimamente si chiama dvg qualcosa se andate su facebook a cercarvi i gruppi dei vettoriali sicuramente ne avete sentito parlare o comunque potete trovare informazioni hanno fatto una nuova schedina che stavolta si collega via USB ci vuole sempre una versione MAME modificata dopodiché siete in grado di emulare tutti i giochi con il MAME pilotando direttamente il monitor vettoriali e quindi potreste anche farvi un multigioco con tutti i giochi vettoriali è stato fatto molto bello vi permette di scegliere tutti i giochi solo e esclusivamente vettoriali su monitor vettoriali ecco io direi che questo in onore del vettoriale quando arriverà il nuovo container dall'America vogliamo fare una serata tutto vettoriale in onore poi di Atari anche dove metteremo a disposizione i nuovi arrivi quelli che abbiamo già e diventerà proprio una sala vettoriale cioè una cosa che non si è mai vista praticamente vogliamo citare un po' di titoli di Black Widow parliamo a tutti i monitor che esplodono parliamo parliamo appunto anche di questo di Space Duel parliamo di Asteroids Gravitar Omega Race Gravitar lo stesso Quantum una cosa rarissima da poter giocare in Italia Lunar Lander non so se l'ho già detto cos'è che abbiamo poi ne abbiamo veramente tanti ecco Quantum io ho ancora un dubbio da risolvere su Quantum perché io vi ho spiegato tutta la cosa del 3D in wireframe per cui questa struttura è a fil di ferro l'astronavina è sempre un bordino però hai notato che in Quantum le palline sono piene sì e come fanno ad essere piene dovrei zoomare da vicino lo scopriremo la prossima puntata secondo me vengono proprio disegnate così a spiralina tutte piene così può essere lo scopriremo lo scopriremo la prossima puntata dovrebbe essere velocissimo eh sì allora o così o a spirale ma comunque le palline di Quantum sono piene abbiamo fatto le palline piene a tutti quindi direi che la lezione come mai nel vettoriale in più io ho un'altra domanda che veramente vogliamo rispondere la prossima cosa perché qua alcune robe sono più luminose di altre la rispondiamo adesso o alla prossima alla prossima vi lasciamo questo dubbio sennò poi ciao alla prossima grazie ciao 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 oh fantastico notte notte dov'è lo stop siamo